Una fresa spazzaneve dal costo di 220.000 euro acquistata e donata alla protezione civile dell'Aquila con parte dei fondi risparmiati dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle grazie al dimezzamento volontario delle loro indennità. A presenziare alla consegna è arrivato anche il vicepresidente della Camera e candidato premier in pectore dei pentastellati Luigi Di Maio. Qui hanno investito in microcredito i nostri consiglieri regionali nella prima fase e adesso in una turbina, quindi nella sicurezza dei cittadini. Nella vita molto spesso può capitare di salvare vite con un mezzo del genere. Noi non chiediamo nessun grazie perché questi sono soldi delle vostre tasse che noi riteniamo eccessivi negli stipendi dei consiglieri regionali, negli stipendi dei parlamentari. Quindi questo è un atto dovuto al popolo italiano. Ricordatevi che il costo di questa turbina la Camera lo utilizza in un anno per pagare la polizza assicurativa ai parlamentari per le punture d'insetto o le insolazioni. Incalzato dalla stampa Di Maio non ha voluto dire nullo quasi sulle note vicende romane ovvero sulla terza polizza dell'ex capo della segreteria politica Raffaele Marra intestata alla sindaca Virginia Raggi sulla megalottizzazione dello stadio della Roma e dell'addio tra i veleni dell'assessore Paolo Berdini. Parliamo d'altro per un giorno implorato. Parliamo ad esempio della necessità di andare subito ad elezioni per cambiare questo paese e delle cose davvero serie. Ad esempio dello scandalo rivelato da un'inchiesta giornalistica del settimanale L'Espresso secondo cui il tesoro italiano ha sottoscritto da una decina d'anni a questa parte titoli derivati costati 23,5 miliardi di euro ai contribuenti e andati a finire nelle tasche delle banche speculative di Mezzomondo. Il tema dei derivati si collega molto a quello che diciamo noi oggi è come si sono usati i soldi dei cittadini in tutti questi anni. Qualcuno è andato a giocare in borsa con le nostre tasse e io ricordo che i cittadini italiani pagano le tasse più alte del mondo industrializzato dovrebbero avere le strade lastricate d'oro e invece una parte dei loro soldi sono finiti in delle scommesse bancarie andate male sulle quali metteremo mano dopo le prossime elezioni politiche sicuramente. I nostri colleghi della Commissione Finanze avevano provato a metterci mano tante volte qui c'è anche Giorgio Soria della Commissione Bilancio abbiamo provato ad accedere a quegli atti tante volte un'inchiesta preziosa, quella sui derivati che ci apre tutto un mondo di come si sono spesi i soldi in questi anni. Io ricordo che al Comune di Napoli ai tempi della Iervolino quando governava il PD c'era l'ufficio finanza creativa.